Belli di caso, ho una domanda per voi, per i maschietti soprattutto. Cosa fate voi quando dovete aspettare la vostra lei ed è in ritardo e non arriva? Fatemelo sapere così prendo spunto nelle attese della vita. Ragazze, attenzione! Pacchete pronde! In fissa! Cingin marocicin! In loop! Pacchete pronde! Pronde! C'è marchigiano ogni ondato! Marchigiano sono! Tu sai cosa dicevano i ragazzi? Tu sei marchigiano! Sì, sono marchigiano! No, dicevo... No, no! Noi abbiamo appena terminato il punto, siamo distrutte, ma siamo felicissime! Ne siamo uscite vincitrici! Perlina, bravissima! Devo dire che mi hai... Tocco amore, ma se tu mi vuoi! Oggi mi hai colpito profondamente! E poi Mirko a casa sua, Anita e Josh Carter, Rossetti, L'uomo che non deve chiedere mai, ci piace comunque! Ciao!